e la benedizione di Dio impotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amén. Inaugurato lo scorso sabato 6 agosto la Cappellina del Cerreto nella frazione di Rocca Nuova di Varsi a dare la benedizione il parroco di Varsi, Don Antonino, e a tagliare in lastro l'abitante più anziano del posto che fino all'anno scorso in inverno era l'unico abitante della piccola frazione, Guerrino Costa, assieme al sindaco di Varsi, Angelo Peracchi. La ristrutturazione è stata voluta da tutta la comunità per un senso di appartenenza dei luoghi. La cappellina era stata costruita nel 1860 e si trova sulla vecchia strada che da Varsi portava verso Pessola. Dopo la benedizione, gli abitanti hanno offerto un rifresco a tutti i partecipanti. Le immagini e il video sono di Cristian Bugatti e le foto di Tiziano Giuffredi. Prendiamo la forbice, aspetta da sotto, ecco qua, girati di là che ti devo vedere, via, speriamo, ecco. Grazie.